Ciao a tutti, cogliamo l'occasione per questa insolita location, siamo davanti al bastione di San Remy a Cagliari per fare un video invito per la prossima presentazione del diario di Leonardo d'Arborea, l'infanzia di una regina che si terrà a Vallermosa sabato 21 ottobre alle ore 18.00. Vi aspettiamo. Ciao.